Ciao a tutti da Zodippo. Oggi preparo la trippa con patate e piselli. Gli ingredienti. 800 grammi di trippa, 300 grammi di piselli, 100 grammi di soffritto, 300 grammi di pelati, 4 patate medie, basilico, olio e sale. In una pentola aggiungo il soffritto e l'olio. Una volta che il soffritto si è dorato, vado ad aggiungere la trippa. Aggiungo i pelati. Dopo una mezz'oretta di cottura vado ad aggiungere i piselli e il basilico. Nel frattempo ho messo un bicchiere d'acqua per far cuocere la trippa. Per finire vado ad aggiungere le patate con un bicchiere d'acqua. E vado a salare. La cottura deve essere lenta. Man mano che vediamo che l'acqua si assorbe, andiamo ad aggiungere l'altra e vediamo la cottura. Dopo un'ora e mezza di cottura, la trippa è pronta. Ora vado ad impiettare. Ecco la trippa con piselli e patate. Ciao da Zio Pippo, alla prossima ricetta.